Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video, oggi siamo in un nuovo video di Figgio e Spina Se ancora vi siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciate like e commenti a tutti i miei video e consigliatemi altre serie da fare Sono incasinatissimo perché per oggi, per venerdì, cioè oggi, è il video di Figgio e Spina Domani una top top 10 giocatori più forti al mondo Dopo domani il video di Clash Royale Dopo domani, lunedì, devo fare le 5 skill inventate da manalto e sono incasinatissimo Perché già ho tutto pronto, però non so quando caricarle Ora mi sono capito quando caricarle e niente, iniziamo questo video Ho comprato un nuovo Figgio e Spina A 2 euro, sempre nella macchinetta Il Figgio e Spina 3 di picche Se l'ho fatto vedere anche nella top top 10 Figgio e Spina più costosi al mondo Ovviamente non era così perché questo è di plastica, ma quello era di legno E ovviamente era molto più figo e costava di più E ovviamente è meglio E niente, questo è il Figgio e Spina 3 di picche Traballo un po' quando lo giri Guardate, traballa non gira tanto, però è figo perché è figo Allora, ieri 2 euro avevo Perché sono uscito, la macchinetta C'era, poteva uscire o questo O quello a 4 Io volevo quello a 4 Oppure anche questo mi andava bene perché lo volevo da tanto tempo Non questo ma quello con la punta Però non fa niente, anche questo è quasi uguale Volevo quello a 4 ieri Perché non ce l'avevo e l'unico mi mancava Oh, a 1 non esiste Ce l'ho a 2, a 3, a 4 A 2, a 3, a 5 Mi mancava solo a 4 Allora lo volevo, stava proprio al fianco E allora ho messo i soldi E non mi è uscito Allora ho chiamato la signora che aveva quella macchinetta E mi ha detto che doveva chiamare il responsabile della macchinetta E l'ha chiamata, ha detto che non poteva venire Allora ha provato con altri 2 euro E l'ha presi E non usciva Quindi mi ha detto, hai ragione, ci riproviamo Ha riprovato e mi è uscito questo fidget spinner E niente, volevo 2 euro indietro Così mi andavo a comprare lo yogurt Però non fa niente Questo fidget spinner mi mancava Quindi ora ho 12 fidget spinner E niente ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Oggi, questo video è stato piccolo Dovevo far vedere questo mio nuovo fidget spinner Ora voglio quello a 4 Anzi, mo' a Benevento c'è la festa della Madonna delle Grazie E ci stanno tanti fidget spinner Perché mio amico quando c'era la festa dei cappuccini Sempre a Benevento Mi aveva detto che c'erano tantissimi fidget spinner Quello a 7 con tutte le punte Poi quelli cromati bellissimi che voglio Porto 20 euro Ovviamente non me li compro tutti Me ne comprerò 1 o 2 Non so manco perché se no Sono troppi Niente ragazzi Quindi niente Fare un nuovo video con questi fidgetti Niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate like Commenti Così mi mette serie da fare Se ancora vi siete iscritti al canale Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo video E' bella Noi ci vediamo al prossimo video